L'argomento di Wè si intitola L'argomento di Wè si dà preparare il furlante per rappresentare un son particolare che in scienza si acclamano post, palatal, sonore, alle forme di due lettere, il G e l'Illung, insieme a forme di Wè che si può stiattare in principi di parole come in tal caso di Ghiate. O in tal miec desperaulis come in tal caso di Staglionis. Ma non si può mai chiamare un finale di parole. A proposito del digramm Dio, lo sapevi che per furlante non si dice burro ma spoglie e che non si dice gioie ma gionde? No? Come lo sapevi?